Il ragazzo che è in sede dell'hotel ha delle braccia fortissime, il sordo vede a distanza di chilometri, il cieco riesce a sentire rumori impercettibili. Questa è una modalità per raccontare la disabilità anche a bambini in modo molto semplice e a loro molto consolo. Indagare la relazione tra disabilità, infanzia e dalbo illustrato, questo è l'obiettivo della mostra un altro sguardo che si è articolato all'interno della Casa delle Energie ad Arezzo. Attraverso le opere di 16 illustratori selezionati da un panorama internazionale, la mostra ha voluto raccontare la diversabilità. Le 16 matite trasformano così la diversità in un'opportunità per riuscire a guardare il mondo noi stessi e gli altri da una prospettiva diversa. Si parla di diversabilità soprattutto nei bambini e nei ragazzi grazie all'intervento che Progetto 5 insieme alla Fondazione Gualandi, alla Giannino Stoppani, al Ministero dell'Istruzione e tanti altri soggetti hanno richiesto alla Fiera del Libro dei Ragazzi di Bologna chiedendo di poter aprire la sezione Disability Award e accogliendo più di 200 libri che vanno a comporre la bibliografia di questa mostra, più di 200 libri da tutto il mondo che parlano di diversabilità attraverso soprattutto l'albo illustrato. Una giuria poi ha selezionato 16 di queste opere e vanno a comporre sostanzialmente la mostra vera e propria delle tavole originali. Quindi un modo per far luce su un tema molto difficile come quello della diversabilità nei bambini, sia disabilità fisica che mentale e cognitiva. Questa mostra poi continuerà oltre che nel territorio nazionale anche in Canada, in Norvegia, in Spagna. E sempre la Casa delle Energie ha ospitato la mostra Punti di Vista, una selezione di fotografie realizzata da alcuni talenti che frequentano i centri di urni in cui lavorano gli operatori di Progetto 5. Progetto fotografico che va avanti dal 2005 e dà il loro modo di uscire e fare sessioni fotografiche che poi li porta a fare mostre, attualmente la vediamo ad Arezzo ma in realtà in tutto il territorio nazionale consentendo loro di sentirsi parte integrata di una comunità, quella dei fotografi che diciamo è trasversale a qualsiasi tipo di diversabilità.